l'allenatore della prossima stagione della Juventus sarà... sarà... allora, nessuno sa realmente che cosa la società ha scelto, quindi non credete a tutte le leggende che stanno circolando in questi giorni e che aumenteranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, perché chiaramente ci troviamo di fronte a un bivio, continuare con Allegri o scegliere un nuovo allenatore. Ragioniamo assieme perché tre sono le opzioni, la prima resta Massimiliano Allegri, la seconda arriva Tiago Motta, la terza torna il fuggitivo Antonio Conte, quello che scappò dopo due giorni di ritiro, cosa mai successe nella storia della Juventus, ma rarissima anche a livello di qualunque squadra del campionato italiano, una roba indegna, ma questa è la mia opinione personale, quindi torniamo indietro e valutiamo le tre opzioni. Perché sono rimaste queste tre opzioni? Perché quella che secondo me aveva molta attendibilità era l'arrivo di Igor Tudor, per tutta una serie di motivi, competente, misurato, ha sempre fatto bene laddove è andato negli ultimi anni, chiaramente di fede a Juventina, però si è accordato con la Lazio e quindi Tudor lo togliamo, chissà, magari in futuro Tudor approderà approderà nuovamente a Torino. Quindi restano le altre tre opzioni. La prima, resta Massimino Allegri. Io ricordo le conferenze stampa di Allegri l'ultimo anno della fine del suo ciclo, del suo primo ciclo, e nonostante la Juve stesse per vincere, nuovamente lo scudetto, i toni erano quelli che facevano presagire quello che sarebbe successo. E oggi, intanto, se sentite battere, stanno facendo i lavori nell'ufficio sotto il mio. La stessa cosa sta succedendo in queste ultime conferenze stampa e mi pare che ci sia un Allegri un po' più nervoso del solito, mi pare che certe parole siano destinate a far capire che chiaramente non c'è la volontà di andare avanti. O meglio, o meglio, perché ricordiamoci una cosa, la Juve ha deciso di cambiare totalmente e giustamente strategia relativamente al Monte Engaggi, anche perché è abbastanza costretta. Quindi non può esserci un allenatore molto costoso. E questo è un argomento che poi tornerà quando parleremo di Antonio Conte. Allegri ha un ingaggio molto elevato che però dovrà essergli pagato anche l'anno prossimo. Quindi, se Allegri sarà mandato via, Allegri, a meno che non abbia voglia di tornare ad allenare da subito, magari non abbia anche delle offerte, perché poi non credete a tutti i vari Allegri out che sono convinti che Allegri sia un allenatore ritenuto un incapace da tutto il resto del mondo. Vi assicuro che non è assolutamente così e quindi ci sta che qualche squadra, anche importante, possa magari già averlo contattato. Quindi, Allegri, la linea della società, a mio parere, è quella di dire al massimo resta ancora un anno quello che hai di contratto, ma in questo caso nessun allenatore accetterebbe, perché chiaramente lavorerebbe senza la fiducia della squadra. All'estero è una cosa che si fa, l'abbiamo visto anche con Klopp, che comunque sta guidando bene anche il Liverpool, nonostante abbia annunciato che a fine anno lascerà. In Italia non funziona così. In Italia avere un Allegri a scadenza l'anno prossimo significherebbe lavorare in un modo non sereno e la Juve ha tanto bisogno di serenità e anche il tifo, anche l'ambiente ha tanto bisogno di serenità e quindi, mio parere, è che la prima opzione ce la togliamo. Quindi Allegri, secondo me, non resta. A meno che non gli propongano un rinnovo, quindi si parte dal presupposto che gli obiettivi fissati dalla società davvero siano stati quelli di arrivare nelle prime quattro e giocare con quel che si ha, quindi con i giovani, quindi senza Pogba, senza fagioli, senza un mercato poi di riparazione neanche, poi con tutti gli infortuni, eccetera, eccetera. Magari con la promessa che dall'anno prossimo le cose, tra l'altro anche con l'aggiunta della qualificazione al Mondiale per Club, ci saranno nuovi stimoli e quindi a quel punto si rinnova Allegri con un contratto decisamente inferiore, magari nell'ordine dei 4-5 milioni a stagione. In questo caso avrebbe un senso. Mio parere, vedo un Allegri poco, poco felice, poco allegro e quindi questa opzione secondo me non gli è stata prospettata. Veniamo alla seconda opzione, Tiago Motta. Tiago Motta è un allenatore bravo, sta facendo grandi cose. Nonostante sia giovane, ha già accumulato esperienza e ha già mostrato, perché ha avuto anche delle esperienze non felicissime, già dimostrato di saper anche adattare il suo calcio, le sue idee di gioco, chiamiamole così, sulla base anche dei giocatori che ha a disposizione. Tra l'altro quest'anno ha anche una bella squadra, tra le altre cose, è uno che anche quando ha subito dei torti arbitrali, tra l'altro proprio contro la Juve, quel famoso rigore che non gli è stato concesso a Torino, ha protestato ma senza fare sceneggiate tipiche di altri, specialmente di tipiche magari di ex interisti che odiano la Juve. Quindi si è tenuto intelligentemente la porta aperta, il suo essere stato un interista non crea troppi problemi, quindi secondo me Tiago Motta avrebbe senso e dico la verità mi piacerebbe anche, perché lo vedo come un allenatore che può essere inserito nella categoria degli innovatori ma è uno non troppo innamorato delle sue idee, quindi chiaramente tra un lui e un italiano che anche lui sta cambiando abbastanza determinate idee e De Zerbi ad esempio tutta la vita Tiago Motta e poi c'è Antonio Conte, c'è un grosso tantam che vede Antonio Conte nuovamente a Torino, lui si è candidato più volte a tornare a Torino, ha detto chiaramente che vuole tornare ma il matrimonio si devono fare in due, parole sue pronunciate anche in televisione a Belve e quindi i segnali lui li ha mandati, si è reso disponibile. Chiaro che con Conte, a parte che la Juve purtroppo ha questa tradizione di ritorni che non sempre sono felici, ovvio che è in situazioni d'emergenza, un Antonio Conte quando devi costruire tra l'altro su una base che esiste perché è vero che la rosa della Juve non è da scudetto, è anche vero che con qualche innesto e con un allenatore che davvero sa far over performare la squadra, secondo me al di là di tutto Conte queste caratteristiche le ha, è una cosa che si può fare. Due dubbi, uno l'ingaggio, Conte si è abituato ormai a ingaggi superiore ai 10 milioni di euro, è ovvio che al momento nessun top club straniero sembra essere interessato a lui, si parla del Bayern Monaco ma non sarà così, tra l'altro lui vuole allenare in Italia per problemi familiari, per questioni familiari diciamo, quindi la logica conseguenza può essere la Juve e nessun club in Italia può pagare stipendi di quel tipo. Un Conte che magari si accontenta a sua volta di 4-5 milioni, magari solo per un biennale perché poi lui va fuori di testa e questa è un'altra cosa da tenere in considerazione, così come da tenere in considerazione il fatto che a livello europeo Conte, cioè se il cammino di Conte nei campionati nazionali è eccezionale, quello nelle coppe europee è del tutto fallimentare, però la Juve oggi ha altri problemi che pensare al cammino europeo, quindi ha assolutamente senso, se Conte si abbassa l'ingaggio è una situazione che si può fare, quindi a mio parere le scelte sono tre. Io sono orientato a pensare che la Juve voglia scegliere chiaramente un percorso diverso, innovatore, basta ritorni di fiamma, basta minestre riscaldate, un allenatore giovane che lavora con i giovani, magari ha aiutato anche da qualche giocatore un po' più esperto che serve come il pane. A mio parere non è la cosa più importante scegliere un nuovo allenatore, però è ovvio che un allenatore nuovo serve, soprattutto se si ritiene chi c'è adesso, cioè Massimiliano Allegri, non più adeguato a quello che la Juve deve diventare in futuro. Purtroppo non sono previsti grandi arrivi, perché la Juve ha situazioni finanziarie da sanare, ne ho parlato anche in altri video, al momento non è la... la Juve non è al centro dei pensieri della proprietà, perché come sapete gli Elkan hanno altre situazioni più importanti a cui pensare, hanno delegato dei manager come deve fare una proprietà assennata e competente, però questi manager hanno a loro volta delle problematiche legate a quelle della proprietà, ok? Visto che Ferrero è il commercialista storico degli Elkan e anche lui è tirato dentro alla questione sull'eredità della figlia dell'avvocato, non c'è neanche questa serenità, quindi massimi poteri ha Giuntoli? Sì, ma Giuntoli è soprattutto un direttore sportivo, non è un amministratore delegato, non è un presidente. L'arrivo di un presidente o un vicepresidente forte, il sogno del Piero... non mi sembra sia all'ordine del giorno, quindi si partirà dall'allenatore, va bene così, io spero si riparta soprattutto dai giocatori forti ed esperti e che però non devono costare troppo. Insomma, non è una situazione felicissima, però dobbiamo anche guardare un po' il bicchiere mezzo pieno e sperare che nel giro di due o tre anni la Juve possa tornare a vincere. Prima non mi sembra possibile. Iscrivetevi, commentate, fate quello che vi pare. Ciao!